vi presento la falegnameria un altro ambiente molto particolare all'interno del fab lab all'interno della falegnameria voi potrete trovare molti macchinari adatti a lavorare tipologie di legno e di materiali compositi anche molto diversi in questo caso stiamo parlando di una combinata di una troncatrice di una sega nastro di un trapano a colonna e di varie macchine manuali adatte a rifinire o a fissare i vari pezzi all'interno della falegnameria noi possiamo lavorare sia materiali di legno massiccio come come questo come noce o come la bete o come qualsiasi altra essenza però appunto di legno massiccio oppure possiamo lavorare anche materiali compositi come l'MDF come l'OSB o come i materiali multistrati di qualsiasi tipo come per gli altri macchinari del fab lab anche la falegnameria ha bisogno di un percorso di abilitazione all'uso quando parliamo di abilitazione parliamo di rispettare alcuni aspetti inerenti della sicurezza se voi vorrete usare la nostra falegnameria non fate altro che prenotare un'abilitazione nel nostro sito e poi passare un'ora assieme a me nella quale io vi spiegherò il corretto uso delle macchine teniamo poi conto che io sarò sempre presente quando voi usate le macchine e quindi potrete sempre chiedermi un consiglio se il vostro progetto prevede lavorazioni più lunghe potete tranquillamente lasciarlo qui in mega hub e riprenderlo nelle giornate successive e i giorni vi ricordo sono il martedì il giovedì dalle 16 alle 20 e 30 e il sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno un altro aspetto che va sottolineato è che noi non vi forniamo il materiale ma qualsiasi tipo di materiale che voi decidete di usare dovrete procurarvelo per conto vostro un simpatico progetto che abbiamo replicato più volte nella falegnameria e che abbiamo proposto a tutti i nostri utenti e soci è stata la costruzione di casse acustiche recuperando i vecchi altoparlanti di una vecchia radio o del vecchio stereo e inventandoci di volta in volta strutture della cassa che potevano sposarsi con l'ambiente e con il vostro arredamento e anche con le prestazioni acustiche ma poi facendo un piccolo upgrade rispetto alle casse acustiche normali e installando nel fondo di una cassa un piccolo amplificatore bluetooth con cui potete facilmente collegare le casse al vostro smartphone questo è un progetto che prevede una discreta abilità nella costruzione in legno ma che potrete affrontare facilmente attraverso il nostro tutoraggio